Buona serata, nuova edizione del TV, giornale di Telestense. Oggi è il 2 agosto e tra poco ricorderemo la strage di Bologna di 41 anni fa, vedendo le commemorazioni avvenute questa mattina proprio nel capoluogo emiliano, ma ci occuperemo anche di Covid perché purtroppo c'è la prima vittima nel ferrarese, a distanza di settimane. Parleremo anche di protezione civile, la colonna mobile antincendi dell'Emilia Romagna è partita in aiuto della Sicilia e poi notizie legate alla politica, ma anche legate in qualche modo all'intrattenimento con la notte gialla, notte promossa da Coldiretti per promuovere una alimentazione sana. Come dicevo in apertura, dunque Bologna ha ricordato oggi la terribile strage alla stazione del 2 agosto 1980 e oltre alle commemorazioni è stato consegnato il Nettuno d'Oro alla associazione delle vittime. Vediamo. È stato il Nettuno d'Oro consegnato dal sindaco di Bologna Virginio Merola all'associazione dei parenti delle vittime della strage di Bologna a scandire l'inizio delle commemorazioni del 2 agosto di quest'anno, tornate alla normalità dopo l'emergenza Covid e la sospensione del corteo dell'anno scorso. Il riconoscimento, il più importante del comune, mette un suggello al rapporto ormai indissolubile fra la città e le vittime della strage e i loro parenti. Un rapporto che si è creato a pochi secondi dopo lo scoppio dell'Ordigno 41 anni fa e che si era già materializzato nella medaglia d'oro al valore civile che il presidente Sandro Pertini conferì a Bologna. Beh, è un fatto notevolissimo, mi sono molto emozionato di questo riconoscimento è un riconoscimento alla battaglia fatta per 40 anni dall'associazione credo che sia, io dico, un riconoscimento anche per tutta la città perché è tutta la città che c'è stata sempre al nostro fianco e perciò credo che sia un orgoglio per tutti i bolognesi, ecco per intendersi. L'impegno stancabile dei parenti delle vittime per arrivare alla verità completa sulla strage quindi ai mandanti e oltre che agli esecutori materiali e ai depistatori che si è concretizzato nei nuovi processi, uno dei quali in corso è stato riconosciuto a tutti i livelli istituzionali a partire da un commosso mero là all'ultima cerimonia da primo cittadino. Da questo palco ho sempre visto una comunità straordinaria una città speciale, Bologna che dà l'esempio e tiene assieme il passato e il futuro attraverso fatti concreti e partecipazione civica perciò mi congelo al palco ma non dall'impegno civico perché quello me lo avete insegnato voi e durerà tutta la vita. Grazie all'Associazione! Grazie a tutti! E questa volta la commozione non ha risparmiato neanche Bolognesi che ha parlato dei quarant'anni dell'Associazione racchiudendoli in una parola utilizzata per la prima volta dal padre di un ragazzo giapponese morto nell'esplosione Kinsuji è l'arte giapponese di riparare gli oggetti rotti con l'oro l'oggetto rotto non torna come prima conserva i segni del trauma ma ne esce unico e ancora più presato Kinsuji il senso metaforico e simbolico è la capacità di non vergognarsi delle ferite subite ma di riuscire a farne un punto di forza Kinsuji questa è la parola che più ci rispide la parola che più rispide la nostra città e voi, voi, per noi siete ancora oggi l'oro che ripara le nostre ferite la nostra ricorda più preziosa grazie, grazie di essere qui per voi tante dunque le rappresentanze questa mattina a Bologna c'era anche il comune di Ferrara ha partecipato l'assessore alle politiche giovanili Nicol Guerrini a nome appunto dell'amministrazione alla cerimonia del 2 agosto 1980 alle diverse fasi della cerimonia e al corteo che visto la presenza come abbiamo seguito di istituzioni, cittadinanza e familiari delle vittime era inoltre presente il gonfalone del comune di Ferrara portato da agenti della polizia locale terrestensi intanto a Vigarano Mainarda per il quarantunesimo anniversario dall'attentato si è commemorato Paolino Bianchi all'epoca cinquantenne il vigaranese che figura tra le 85 vittime vediamo un mazzo di fiori sulla tomba dove riposa Paolino Bianchi vigaranese che perse la vita nella strage di Bologna del 2 agosto 1980 è quello che è stato deposto questa mattina durante la commemorazione iniziata alle 8 per ricordare l'anniversario della strage alla stazione ferroviaria di Bologna dove lo scoppio di una bomba causò la morte di 85 persone tra cui il vigaranese Paolino Bianchi che all'epoca aveva 50 anni e oltre 200 feriti la cerimonia è iniziata davanti al municipio di Vigarano Mainarda con la presenza della protezione civile l'associazione dei bersaglieri in congedo e cittadini l'evento commemorativo organizzato rispettando tutte le regole anticontagio è da sempre molto sentito dalla popolazione il corteo con il gonfalone in testa guidato dal subcommissario prefettizio Daniele Canazza è arrivato nel cimitero di Vigarano qui il parroco Don Giacomo Falco Brini ha impartito la benedizione alla tomba di Paolino Bianchi terminata la cerimonia una delegazione comunale con gonfalone si è recata a Bologna per essere presente alla commemorazione ufficiale dove nel piazzale della stazione c'era il commissario prefettizio Massimo Di Donato e adesso parliamo di sanità perché nel ferrarese dopo un mese di tregua si registra un nuovo decesso per complicanze da Covid-19 si tratta di un 71enne con patologie pregresse calano rispetto ieri anche se leggermente i nuovi casi di positività al virus ma si registrano ancora due nuovi ricoveri all'ospedale Sant'Anna vediamo calano ancora rispetto alla giornata precedente nella provincia di Ferrara i nuovi contagi da Covid-19 nel bollettino odierno sono registrati 43 nuovi casi di cui 26 presentano sintomi 17 i nuovi guariti comunicati invece dal Dipartimento di Sanità Pubblica i nuovi 43 casi con un'età media di 34 anni sono stati individuati con 207 tamponi refertati dopo oltre un mese di tregua purtroppo si registra nel ferrarese un nuovo decesso per complicanze da Covid-19 si tratta di un 71enne ospite della Cracu Isisana di Ostellato deceduto lo scorso 31 luglio all'ospedale Sant'Anna di Ferrara Cona sale così a 902 il numero delle persone decedute nel territorio ferrarese dall'inizio della pandemia si tratta di 451 donne di 451 uomini l'uomo aveva patologie pregresse concomitanti nella giornata di domenica 1 agosto si devono registrare anche due ricoveri in ospedale al Sant'Anna di Cona nei reparti Covid positivo mentre sono ancora due i posti letto occupati in terapia intensiva intanto continua la campagna vaccinale a Ferrara e Provincia nella giornata di domenica 1 agosto sono state effettuate 2.238 vaccinazioni mentre dal 27 dicembre complessivamente sono state 415.843 le dosi somministrate di cui 183.889 seconde dosi altro tema delicato e difficile di questi giorni è quello degli incendi ebbene parte la solidarietà dall'Emilia Romagna perché anche dalla nostra regione è partita la colonna mobile della protezione civile in aiuto appunto per spegnere gli incendi boschivi sono una cinquantina le persone che dall'Emilia Romagna con una colonna mobile della protezione civile si sono recate a Catania nella sede dell'unità operativa della regione Sicilia per prestare aiuto dopo i devastanti incendi boschivi che hanno colpito duramente l'isola volontari, dirigenti e funzionari dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale la protezione civile con sette defender con carrelli, un forester e un porter attrezzato uomini e mezzi della colonna mobile regionale antincendio boschivo sono partiti dopo la dichiarazione dello Stato di mobilitazione nazionale della protezione civile per quanto sta accadendo nell'isola ed opereranno a supporto delle attività di spegnimento dei roghi un grazie a tutti i nostri volontari alla richiesta d'aiuto la risposta non si è fatta attendere ha sottolineato il presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini e tutta la giunta sono in tutta una trentina le squadre delle diverse regioni che andranno in Sicilia come avvenuto già molte volte in passato e come prassi nell'ambito della collaborazione che le strutture di protezione civile delle regioni assicurano al Dipartimento Nazionale e adesso apriamo la pagina della politica un assestamento di bilancio che vede 16 milioni di investimenti tra opere pubbliche manutenzione del verde digitalizzazione di servizi e interventi a favore delle imprese lo scorso lunedì il Consiglio Comunale di Ferrara nell'ultima riunione prima della pausa estiva ha approvato la delibera di assestamento generale del bilancio comunale 2021-2023 presentata dall'assessore al bilancio Matteo Fornasini sentiamo Nonostante la pandemia i conti del Comune di Ferrara sono in ordine e permetteranno una serie di investimenti per oltre 15 milioni di euro destinati a potenziare le scelte già operate nel bilancio di previsione in materia di opere pubbliche ed impegni presi dal sindaco con i cittadini in campagna elettorale è un bilancio in sicurezza che con il tesoretto di oltre 6 milioni di euro derivante dagli avanti di gestione 2020 e da parte dei trasferimenti governativi permetterà all'amministrazione di perfezionare nuovi monti per circa 8 milioni di euro liberando risorse da impiegare in numerosi interventi di manutenzione sia di strade che di marciapiedi del centro e delle periferie ma anche di curare il patrimonio arboreo di intervenire sulla sicurezza sul decoro urbano sulla rigenerazione delle frazioni senza trascurare la modernizzazione della macchina comunale di ferrare a fiere e il sostegno alla ripresa economica della città tra gli investimenti e anche quelli resi possibili dall'avanzo economico di oltre 1 milione di euro ottenuto da imborso IMU per il Sisma dell'anno 2021 Nei 16 milioni ci sono investimenti sulla digitalizzazione degli uffici comunali e del quartiere fieristico i bandi e sostegno delle imprese le telecamere di sorveglianza anti-assemblamento tra nuove piste ciclabili fra cui quella che dovrebbe unire la città all'ospedale di Cona il restauro di un chilometro di muro estense all'anno come da programma del sindaco ma anche gli incarichi per collaudo e interventi previsti dal bando periferie con aggiornamenti progettuali e ampliamento dell'autostazione l'incremento per i parchi sicuri la realizzazione di infrastrutture per i parchi bassani il cofinanziamento di un piano di ristrutturazione da parte di Acia di alloggi ERP nell'area di Viale Crasnoda oltre a 200.000 euro per la manutenzione di altri alloggi ERP da ultimo due finanziamenti destinati il primo alla realizzazione di un centro polifunzionale sportivo e convenistico il secondo alla riqualificazione della cosiddetta Casa dei Polli acquisita da recente al Comune tutta da bonificare una manovra imponente dunque che ha trovato nella consigliera del Sine Civico Roberta Fusari una serie di critiche piuttosto dettagliate a partire dal metodo adottato dalla Giunta che ha deciso ha detto l'accantonamento di fondi per interventi di cui non si conoscono o non si hanno ancora i progetti che facciano capire in dettaglio la destinazione sia delle cifre più importanti che di quelle più modeste come i 10.000 euro messi a disposizione dell'ufficio stampa del sindaco per la comunicazione di che cosa aggiunge Fusari non si sa credico sul metodo anche il consigliere del momento 5 stile Tommaso Mantovani che aggiunge bene l'attenzione per il patrimonio arbore ma forse gli sfalci dell'erba nelle periferie dovrebbero essere fatti in modo più articolato Fornasini replica dipendendo l'operato della Giunta ha seguito dice un preciso orientamento politico amministrativo del Consiglio Comunale i cittadini aggiunge l'assessore al lavoro pubblico Andrea Maggi chiedono continuamente interventi di manutenzione che mancavano da anni dai quali dipende in molti casi la stessa qualità del vivere in città e nelle frazioni la delibera è passata con i voti della maggioranza e non compatto dell'opposizione intanto i centri di accoglienza delle persone senza fissa dimora resteranno aperti fino alla fine dell'anno 24 ore su 24 il risultato è conseguenza di una risoluzione all'assestamento generale del bilancio 2021-2023 proposta dai consiglieri PD Ferri e Cola Iacovo e approvata anche dalla maggioranza che ha scongiurato l'apertura solo negli orari notturni che sarebbe entrata in vigore dal primo di agosto a questo punto sentiamo proprio la consigliera Caterina Ferri io e il consigliere Cola Iacovo abbiamo appunto depositato questa risoluzione che chiedeva di estendere oltre il 31 luglio che era il termine inizialmente previsto l'apertura H24 dei centri di accoglienza per le persone senza fissa dimora questo perché dopo che il 22 luglio è stato prorogato anche lo stato di emergenza fino alla fine dell'anno ritenevamo che fosse un'azione non solo di diciamo di assistenza sociale nei confronti di queste persone che viceversa non sanno dove andare non avendo una casa e se si fossero chiusi i dormitori durante il giorno sarebbero rimasti fuori in giro per la città questo anche con rischi connessi alla salute visto il perdurare della pandemia covid in questo modo invece e ringrazio anche i consiglieri colleghi di maggioranza e l'assessore Coletti che hanno accolto questa nostra richiesta fino alla fine dell'anno ci sarà questa possibilità quindi i centri di accoglienza saranno aperti tutto il giorno e tutta la notte ecco allora un esito positivo che vi ha visti uniti tutti quanti quindi maggioranza e minoranza ma per quello che riguarda il caso di Ferrara è un caso unico o nella regione ci sono comunque altre città che hanno dotato soluzioni analoghe? ci sono alcune città che hanno deciso di prorogare come nel nostro caso dopo la nostra risoluzione l'apertura e altre città invece che hanno deciso di terminare col 31 luglio questa apertura straordinaria io credo però che sia tra l'altro prevede un costo aggiuntivo di 7 mila euro l'anno per il comune quindi davvero irrisorio a fronte di un milione rotti di avanzo di bilancio e quindi noi insomma ringrazio per l'approvazione che porterà fino alla fine dell'anno questa azione ma abbiamo già deciso che presenteremo emendamenti al bilancio di previsione del 22 per fare in modo che questa azione prosegua perché anche al di là della pandemia dare un tetto a chi ne ha bisogno anche durante la giornata penso che sia un'azione da proseguire visto il costo irrisorio che produrrà per il comune e adesso parliamo di lavori in corso nuovi lavori nelle vie del centro di Ferrara da oggi è partito il rifacimento di parte della pavimentazione di Corso Portamare sentiamo il mese di agosto comincia a Ferrara con nuovi lavori di riqualificazione delle strade ha preso il via in corso Portamare il rifacimento della pavimentazione stradale nel tratto compreso tra Corso Ercole Primo d'Este e Via Borso sarà necessaria meno di una settimana per la sistemazione della tratta che in questi giorni resta aperta al traffico a senso unico alternato la qualità delle strade è un aspetto imprescindibile sottolinea l'assessore dei lavori pubblici Andrea Maggi e riguarda ovviamente l'intero territorio dal centro alle frazioni l'intervento in esecuzione in corso Portamare fa parte di un appalto complessivo di lavori di circa 700 mila euro che include altri lavori in città e nelle periferie adesso invece parliamo di appuntamenti per i prossimi giorni è stata presentata questa mattina in comune la Notte Gialla di Coldiretti l'iniziativa si pone l'obiettivo di promuovere un'alimentazione sana e corretta vediamo si chiama Summer Night ed è la prima Notte Gialla promossa da Coldiretti Ferrara in programma venerdì 4 agosto in piazza municipale l'iniziativa è stata presentata in conferenza in comune la Notte Gialla nasce per semplicemente per un momento augurale fra cittadini consumatori e agricoltori ferraresi in questo caso Coldiretti Coldiretti che puntualmente sa apprezzare i momenti e dopo il periodo pandemico e i cambiamenti climatici che abbiamo avuto in questi tempi una serata di felicità diciamo un momento per scambiarci l'augurio di buon ferragosto agliatata da assaggi di frutta di stagione dolci e assaggi di vini della provincia di Ferrara frutti e cibi sani di stagione noi siamo orgogliosi di presentare quelli qua del nostro territorio di Ferrara anche perché sappiamo benissimo che contribuiscono in maniera molto molto forte ad una buona dieta mediterranea che poi insomma ci proietta anche a stare bene durante la nostra vita durante le nostre giornate l'appuntamento appunto è il 4 di agosto mercoledì dalle 20 in poi avremo una serie di situazioni da una parte un intertenimento musicale con la young band della filarmonica di Vugenza che ci entrerà con la musica di sottofondo da un'altra parte l'area diciamo enogastronomica dove c'è la possibilità di avere degli assaggi di frutto di stagione preparati in Macedonia dolci tipici ferraresi anche questi piccoli assaggi un aperitivo con i vini del territorio e poi dall'altra parte la possibilità di assaggiare invece del food moderno proposto da un nostro agriturismo di un ragazzo giovane che si è impegnato molto e ci darà una mano grossa per portare appunto il nostro prodotto di filiera agricola in degustazione in ferraresi siamo molto soddisfatti ringraziamo col diretti per aver organizzato questo evento dopo l'anno passato che è stato molto difficile ed è anche saltato l'appuntamento storico della loro festa di ringraziamento quindi è bello ricominciare dal nostro settore primario che è fondamentale per noi per tutti noi con i loro prodotti chilometro zero quindi è un buon è un bellissimo appuntamento al quale non possiamo mancare invitiamo anche tutta la cittadinanza nel cuore proprio della città Prima di chiudere gli appuntamenti della serata su Telestense partiamo alle 20.05 quando torna a primo piano dedicato all'evento tipici da spiaggia cocomeri, meloni, pesche e l'ottima frutta prodotta dall'agricoltore di CIA agricoltori italiani Ferrara è stata la protagonista dell'iniziativa tipici da spiaggia tenutasi a Porto Garibaldi presso il bagno Astor in contemporanea ad altre tre località della riviera Romagnola manifestazione ricordiamo promossa dal Sib sindacato italiano balneari aderente a Fipe Conf Commercio e CIA agricoltori italiani e alle 21.30 protagonista il calcio con tacchi e tacchetti vi ricordo anche Telestense.it i nostri canali social dove trovate queste e altre notizie grazie dunque per averci seguito e a tutti l'augurio di una buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.